Musica E' operativa dal 1 gennaio 2019 la fusione tra due storiche cooperative sociali forlivesi, Formula Servizi alle persone e Acquarello. La fusione è stata presentata ufficialmente alla stampa alla presenza di rappresentanti istituzionali del mondo cooperativo. La nuova Formula Servizi alle persone raggiungerà un fatturato complessivo di 10 milioni di euro all'anno, dei quali il 46% è rappresentato dall'area educativa e dai servizi all'infanzia. Una fusione operativa dal 1 gennaio di quest'anno, intanto da dove è nata? E' nata con tanto tempo e tanta voglia di creare un gruppo che sia in grado di fare tutti i servizi alla persona. Formula Servizi alle persone era già una bella cooperativa nata nel 2014. Con questa fusione con Acquarello riusciamo a dare molti più servizi anche e soprattutto nell'infanzia. Cosa cambierà a livello operativo? La possibilità di investire anche su nuove realizzazioni. Speriamo nel giro di poco tempo di poter fare nuove strutture e nuove esperienze lavorative. Perché è stato importante creare questa fusione? Perché le piccole cooperative hanno sempre grandi problemi, perché ovviamente hanno tutte le incombenze anche delle strutture più grandi. E mettere insieme le professionalità, la qualità, significa dare la possibilità futura a tutti questi lavoratori. Unirsi per affrontare insieme le nuove sfide del futuro. Quali saranno queste sfide? Beh, innanzitutto stiamo creando una cooperativa sociale di tipo A, Formula Servizi alle persone, più ampia, che ha come obiettivo quello dell'innovazione sociale. Ampliamo un'area che è l'area educativa, con la fusione per incorporazione di Acquarello, un'altra cooperativa che insieme e da sempre, da 30 anni, costruisce il welfare territoriale nelle comunità in cui opera. E abbiamo l'obiettivo proprio di continuare a creare comunità. Cosa significa creare comunità per quanto riguarda soprattutto il territorio di Forlì? Significa partecipare insieme all'ente pubblico e insieme a tutto il terzo settore, dicevo partecipare a un percorso, che è il percorso verso il futuro, verso la creazione proprio di un futuro migliore, che possa accompagnare le nuove generazioni. Noi gestiremo e stiamo già gestendo veramente 30 nidi, spazi bambini genitori, scuole dell'infanzia, e significa proprio lavorare per la costruzione di un futuro, che ci auguriamo tutti è un futuro migliore. Vogliamo dare qualche dato di questa nuova cooperativa che sta nascendo? Certo, sono 16 i comuni in cui operiamo, arriviamo a un fatturato con la fusione di 10 milioni di euro, sono 343 i dipendenti al lavoro per formula servizi alle persone, dipendenti che, dicevo prima, lavorano quotidianamente per costruire appunto le comunità e la comunità in cui operiamo. Formula servizi alle persone ha proprio tra le sue finalità quello di lavorare per la promozione del benessere nel territorio in cui lavora, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi. Altri dati sono 1543 le famiglie a cui garantiamo, diciamo, un'accoglienza e l'educazione dei propri bambini e questo ci riempie sinceramente di entusiasmo. Altri settori nel quale operate? Formula servizi alle persone opera già dal 1987 per l'assistenza domiciliare nel territorio di Rimini e Riccione. Abbiamo e gestiamo case di residenza per anziani, il centro socio-riabilitativo residenziale, residenze sanitarie e psichiatriche, gruppi appartamento per utenti che vanno appunto dalla minorità, quindi dall'infanzia fino all'età adulta e all'anziano. Lavoriamo con i disabili fisici e psichici in servizi professionalmente qualificati. Cosa cambia a livello operativo con questa fusione? Cambia, diciamo, la nostra visione del futuro. A livello operativo saranno gli stessi operatori che si interfacceranno all'interno dei servizi perché all'operatore, diciamo, non cambia nulla, ma quello che cambia è la nostra visione, è la nostra idea di crescita. Abbiamo comunque l'idea effettivamente di spostarci e di non lavorare solo su questo territorio ma di guardarci intorno per creare anche nuova occupazione e maggiore stabilità. Ovviamente negli ultimi anni sono cambiate molto le cose. In base anche a questo, lei come vede il prossimo futuro? Beh, io lo voglio vedere con entusiasmo, sicuramente con positività. Di certo dovremo cogliere delle sfide, questo senza dubbio, cioè dovremo fare i conti con i tagli, dovremo fare i conti con minori risorse e con maggiori bisogni, questo senza dubbio. Ma siamo anche pronti a fare dell'innovazione una nostra amica. In questo senso ci prepariamo appunto per creare anche servizi innovativi in cui poter dire anche ed utilizzare un linguaggio che è quello dell'accoglienza, della presa in carico, dell'attenzione verso l'altro e dell'integrazione. Infine il rapporto con le istituzioni? È un rapporto buono, positivo. Cerchiamo sempre di cogliere quelli che sono i bisogni presenti sul territorio e di dare una risposta per costruire il welfare locale. Paola Rossi, responsabile dei servizi educativi di Formula Servizi alle persone proveniente invece dalla cooperativa Acquarello, che è specializzata in servizi per l'infanzia. Cosa cambia per quanto riguarda l'infanzia con questa fusione? Nulla, non cambia nulla, perché come dicevo prima, l'idea del bambino è identica. Formula Servizi alle persone è uguale il pensiero di idea del bambino, per cui se Acquarello è riuscita a fondersi con una cooperativa come Formula Servizi alle persone significa proprio che l'idea comune di bambino è uguale, per cui non cambia nulla. Si parla anche di servizi innovativi, quindi puntare sull'innovazione, che con questa fusione diventerà ancora di più una priorità. Quale linea vorrete seguire? La linea di andare sempre in conto ai bisogni del bambino soprattutto e di trovare delle sinergie che vadano incontro al nuovo welfare, per cui a questo punto si identifica nelle innovazioni, servizi che vanno nell'ottica della flessibilità, come dicevamo prima, ma nello stesso momento tenendo ben saldo il principale soggetto, attore della nostra pensare pedagogico e pensare, cioè il bambino. Per cui i servizi innovativi sono sulla flessibilità ma soprattutto sui bisogni del bambino. All'incirca quanti sono i bambini che vengono seguiti, gestiti dalla cooperativa? Nell'arco dei 30 anni capite che sono migliaia e tant'è vero che abbiamo appunto avuto recentemente una partecipazione a nozze di un nostro bambino, ma attualmente siamo sulle 700-800 bambini a cui serviamo il nostro operato, la nostra professionalità. Però di bambini se devo dare un numero, non voglio dare dei numeri perché sono immensi. Sindaco, una fusione importante che porterà anche più servizi per la città di Forlì. Non c'è dubbio, l'intero territorio penso beneficerà di esperienze che si uniscono, quella di Formula Servizi consolidata a livello romagnolo, ormai non solo romagnolo. È un'esperienza educativa molto interessante, specializzata in maniera specifica sui temi della infanzia, degli asili nido e che ha sviluppato una sua organizzazione imprenditoriale, una sua dedizione al servizio che oggi ha importanti certificazioni e un investimento sulle risorse umane, sulle operatrici in particolare di primo piano, di primo livello. Dopo 30 anni, oltre 30 anni di questa storia, oggi si vanno a consolidare le condizioni d'impresa che evidentemente ne fanno una certezza di Forlì, ma non solo per Forlì. Sistema cooperativo molto radicato sul territorio, con una forte impronta, diciamo, verso quello che è il tessuto economico e soprattutto sociale del nostro territorio. In quale modo il Comune supporta queste iniziative? Intanto che venga dal mondo cooperativo un'esperienza di questo tipo testimonia come il concetto di solidarietà e mutualità è davvero intrinseco alle nostre generazioni e alla capacità di sviluppo di impresa. Il Comune evidentemente deve investire nella direzione di favorire i modelli partecipati, imprenditoriali partecipati, non a scopo di lucro e orientati al benessere e a qualità. In questo caso molto orientato al futuro, alle giovanissime generazioni e alle loro famiglie. Ecco, noi dobbiamo continuare a investire perché il sistema formativo, educativo e scolastico sia una priorità delle amministrazioni. Abbiamo confermato anche nei bilanci di questi anni, anche in quest'ultimo bilancio.